ha superato 8, ha entrato in elettricore, ha scaricato questo lento, ha potentissimo ha sparato un lento, ha rischiato il tasco da Vezzi perché ha sparato un lento proprio l'altro, ha fatto differenza in Napoli 1, Lecce 0, è sempre qui il paese delle meraviglie è sempre qui il parco giochi dove c'è la giustattura che gira veloce e chi la vuole